Sono stato venti minuti, neanche mezz'ora, neanche percare. Sei riuscito a far viener bene perché non sei tanto capace? Non ho bisogno di leggere le istruzioni, per vedere se c'è il modo di sottesporre. Dipende che macchina è però, sì. In questo si fa anche panorama. Che macchina è? Un manicom. Ah beh allora, sì. Perché non l'hai portata? Ma c'è una macchina. Perché non l'hai portata? Cioè che tanto... che fotografa? Fai questi video qui e dopo li carico su Youtube, con te che mi racconti della macchina nuova. Per cosa fai? Non ti riprendo perché sei troppo abbronzato. Adesso... anche perché poi prima che ti sei abbronzato. Sì... Le mani. Le mani e il naso posso andare in moto. Perché poi ieri ho usato i guanti, quindi... Le mani sono sporche, più che abbronzate. Ma scusate che il fatto che sei abbronzato, cosa ti fa pazza? che non fai un cazzo come quello visto che sono anni che si è abbronzato dipenderà dalla macchina che hai sempre